E' iniziato nel mattatoio di San Giorgio Ionico l'abbattimento dei 64 bovini prelevati ieri dall'allevamento di Giuseppe Chiarelli, incontra da Orofino a Massafra, bovini che risultano contaminati da diossina e policlorobifenili. L'ASL di Taranto ha emesso l'ordinanza di abbattimento basandosi sulle indicazioni del tavolo tecnico regionale a causa del bioaccumulo di inquinanti nel latte vaccino a livelli superiori al consentito. L'allevamento di Chiarelli, che dista una decina di chilometri dall'Ilva, è sotto vincolo sanitario dal settembre 2013. La presenza di livelli di diossina e PCB fuori norma era stata già rilevata con gli esami eseguiti a marzo dell'anno scorso dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Al proprietario dell'allevamento, la Regione Puglia anticiperà, in attesa che si individui la fonte di inquinamento, la somma corrispondente al valore degli animali abbattuti, circa 90.000 euro.